ciao a tutti oggi parliamo dei mammiferi un gruppo di vertebrati che si originarono dai rettili quando il nostro pianeta era ancora popolato dai dinosauri inizialmente i mammiferi erano piccole creature molto molto simili agli attuali toporani si tratta comunque di animali omeotermi capaci cioè di mantenere costante la temperatura del corpo indipendentemente dalla temperatura esterna il termine mammifero ci fa pensare alla parola mamma infatti le femmine sono caratterizzate dalla presenza di ghiandole mammarie sviluppate capaci cioè di produrre latte si tratta di una miscela di grassi, zuccheri, proteine, sali minerali, vitamine e acque con le quali sono in grado di nutrire i piccoli nei mammiferi infatti è molto molto sviluppata la cosiddetta cura parentale cioè i genitori si occupano dei cuccioli e del loro nutrimento fino a quando questi piccoli diventano completamente autonomi i mammiferi possegono come tutti i gruppi di vertebrati un endoscheletro il loro scheletro è formato da un cranio utile per proteggere il cervello, l'organo della vista e altre strutture e una vera e propria colonna vertebrale che si allunga quasi sempre a costituire la coda inoltre posseggono quattro arti che solitamente terminano con quattro o cinque dita che sono munite di unghie il corpo è rivestito da peli che servono proprio per contribuire all'omeotermia cioè al mantenimento costante della temperatura interna inoltre la pelle è ricca di ghiandole particolari come quelle sebacee che producono una sostanza detta appunto sebo che rende il pelo lucido e impermeabile sono inoltre presente altre ghiandole come quelle sudorippare che contribuiscono insieme alla pelliccia al mantenimento costante della temperatura infatti quando la temperatura esterna è troppo elevata il mammifero suda cioè espelle il sudore costituito in gran parte d'acqua e questo processo permette di abbassare la temperatura corporea questi animali hanno un sistema nervoso già notevolmente sviluppato soprattutto nella porzione dell'encefalo che rende i mammiferi in gran parte dotati di una grande capacità di apprendimento per quanto riguarda la respirazione anche nelle specie acquatiche quali la balena, il delfino avviene attraverso dei polmoni che hanno una superficie molto ampia per permettere lo scambio tra l'ossigeno e l'anidride carbonica ed ecco quindi un bel disegno schematico che riguarda la circolazione sanguigna nei mammiferi dunque anche nell'uomo si tratta di una circolazione doppia due circuiti un circuito breve o piccola circolazione o circolazione polmonare che ha lo scopo di portare il sangue ricco di anidride carbonica ai polmoni per ripulirsi e assumere grandi quantità di ossigeno è una grande circolazione, circolazione corporea che porta il sangue a tutto il corpo per cui il liquido passa due volte dal cuore per compiere un giro completo oltre che doppia la circolazione è completa in quanto il cuore risulta essere formato da quattro stanze separate due atri superiormente e due ventricoli che non comunicano tra loro o meglio la parte destra non comunica con la parte sinistra l'atrio destro comunica col ventricolo destro l'atrio sinistro con il ventricolo sinistro ma le due porzioni sono nettamente separate questo impedisce il mescolamento tra sangue pulito arterioso e sangue sporco tra virgolette detto venoso se parliamo poi di alimentazione i mammiferi comprendono i carnivori che si nutrono di carne gli erbivori che si nutrono di vegetali come in questa immagine e gli onnivori che si nutrono in modo molto vario a seconda dell'alimentazione cambiano decisamente la forma dei denti qui abbiamo di fronte un erbivoro ed è interessante vedere come è formato lo stomaco dei cosiddetti ruminanti essi comprendono le pecore, le mucche, le capre ma anche la giraffa, il dromedario allora noi sappiamo che nutrirci d'erba è molto molto impegnativo in quanto i vegetali sono alimenti poco ricchi di sostranze nutritive per cui devono essere mangiate in grandi enormi quantità ma contenendo cellulosa sono anche molto molto difficili da digerire quindi lo stomaco dei ruminanti è diviso addirittura in quattro cavità che sono il rumine, il reticolo, l'omaso e l'abomaso il rumine è un contenitore di cibo che viene masticato molto rapidamente nel reticolo il cibo viene ridotto in una sorta di poltiglia ma alla sera viene rinviato alla bocca quando l'animale è a riposo ricevendo di nuovo questi bocconi riprende la masticazione per inviarli poi nell'omaso e nell'abomaso in cui avviene la vera e propria digestione per questo modo i ruminanti riescono a ingurgitare grandi quantità di cibo in brevissimo tempo per poterlo poi digerire con calma in un luogo riparato e meno esposto ai possibili predatori per quanto riguarda la riproduzione direi che i mammiferi hanno sempre una fecondazione interna al corpo della femmina e la gran parte dei mammiferi sono vivipari pochissime specie risultano essere ancora vipare cioè mammiferi che depongono le uova tipico esempio l'ornitorinco i vivipari possono poi ancora essere distinti in quelli che hanno la placenta per cui il piccolo si sviluppa nel corpo della mamma come l'uomo per ben nove mesi poiché è nutrito da questa struttura che permette il passaggio delle sostanze utili alla crescita dalla mamma al piccolo un altro gruppo meno sviluppato è quello dei marsupiali che partoriscono come il canguro piccoli ancora non formati ma questi piccoli vengono tenuti immaturi all'interno di una borsa detta marsupio dove si trovano le mammelle dove rimangono al calduccio riparati e completano in questa borsa il loro sviluppo tantissime le notizie tantissime le curiosità che potrebbero ancora essere elencate a proposito di questo gruppo che comprende tra l'altro forme particolari quali la balena e il delfino che ricordano dei pesci ma sono mammiferi ma anche il pipistrello che sembra essere un uccello ma tuttavia anche lui è un mammifero e per concludere propongo dunque questo bellissimo schema riassuntivo dove potrete trovare la gran parte delle notizie che avete ascoltato in questo video per oggi è tutto vi ringrazio e vi do l'appuntamento alla prossima lezione ciao ciao